Ho letto qualche giorno fa un post sul profilo Facebook del mio amico Gegge Lorenzano che riporta del disastro che è successo in Brasile. In pratica è andato a fuoco il Museo Nazionale di Rio de Janeiro, museo vecchissimo che aveva praticamente 200 anni di storia e se contiamo che tutta la storia del Brasile ammonta a circa 500 anni ci rendiamo conto della gravità della catastrofe. La cosa bizzarra è che pur essendo il museo più grande e importante dell'America Latina in quasi 200 anni di storia non era stato mai affrontato un serio restauro. Insomma, una delle solite tragedie annunciate a cui noi italiani siamo ormai abbastanza abituati. Si sapeva bene che il museo aveva dei grossi problemi, che l'impianto antincente non funzionava tanto che dall'inizio degli anni 90 si era pensato già a trasferire la collezione altrove e ci si stava attivando in questo senso. Dall'inizio degli anni 90. Con calma, mi raccomando. Ma come tutti gli stati che si rispettino, il Brasile, anziché aumentare i fondi per velocizzare questa operazione, pensa bene di tagliarli e quindi tutto si arena. Questo disastro quindi ci spinge a fare alcune considerazioni sulla gestione museale. La prima è quanto sia opportuno concentrare collezioni così enormi in un solo posto. Pensate se una cosa del genere succedesse a Louvre, vabbè ma magari in Francia queste cose non succedono, o addirittura agli uffizi dove non ci metterei la mano sul fuoco che non potrebbe mai succedere. Forse in futuro i musei potrebbero cambiare a livello strutturale, potrebbero non essere più dei palazzoni monoblocco, ma delle cittadelle vere e proprie con dei padiglioni magari tematici e diffusi su un'area museale più vasta e allargata. Potrebbe essere un sistema più funzionale sia dal punto di vista gestionale che da quello della fruizione. Se un visitatore si voleva vedere solamente lo scheletro del dinosauro magari non deve pagare 19 euro per vedersi tutta la collezione e può soltanto usufruire in maniera anche diluita nel tempo di cose diverse. La seconda considerazione è quanto sia importante la digitalizzazione del patrimonio dei musei. Ad esempio in quello di Rio avevano le registrazioni di lingue parlate da popolazioni indigene ormai estinte. Beh se queste registrazioni fossero state digitalizzate e messe su un cloud in questo momento non sarebbero andate perse. Cioè ovviamente stiamo parlando di un lavoro immane, ma la tecnologia oggi c'è. Spesso e volentieri ci sarebbero anche i volontari disposti a fare questo genere di lavoro pur di dare una mano a salvaguardare il patrimonio. Quindi perché non farlo? Poi del resto semmai si comincia. La terza e ultima considerazione ci riporta al discorso della gestione pubblico-privato. Spesso gli stati nazionali non sono assolutamente in grado di gestire questi patrimoni. Allora perché non far subentrare? Con tutta la regolamentazione del caso ovviamente imprenditori privati che siano in grado di garantire la giusta sicurezza e di valorizzare al meglio le collezioni? Parliamo ovviamente di valorizzazione anche dal punto di vista economica perché poi diventa un cane che si morde la coda. Più il museo guadagna, più io sono in grado di fare investimenti anche strutturali in sicurezza e quindi ci si riesce a dotare dei mezzi necessari per studiare, salvaguardare, valorizzare. Una cosa interessante che a margine della tragedia ci fa notare Gegge Lorenzano nel suo post su Facebook è che Napoli, la regione Campania e Meta, che è il paesello della penisola sorrentina dal quale provengo, avevano delle grandi connessioni con il Brasile e soprattutto con quel museo. Non tutti infatti sanno che la seconda imperatrice del Brasile era napoletana, Teresa Cristina di Borbone, figlia di Ferdinando II che sposò Don Pedro II. La storia è simpatica perché quando si seppe che Don Pedro era in cerca di mogli, il governo del regno delle due Sicilie subito si precipitò a mandare la proposta di matrimonio inviando un ritratto della giovane principessa, che appariva ovviamente bella e affascinante. Don Pedro accetta, formalizza il finanziamento e la futura consorte arriva in Brasile il 3 settembre 1843. Purtroppo quando ormai era troppo tardi si accorgono che il ritratto era stato un po' photoshoppato e che la principessa non era proprio come l'avevano immaginata. Piccolina, un po' sovrappeso, con il labbro inferiore all'Asburgo, un po' pronunciato, e a quel punto che vuoi fare ormai te la devi sposare. E quindi Don Pedro, anche se si sentiva un po' preso per il culo, molto controvoglia, acconsente alle nozze, cedendo al dovere. L'altra curiosità che ci riguarda è che in quel museo erano conservati importanti teli del grande pittore marinista Edoardo De Martino. Su Edoardo De Martino abbiamo pubblicato un libro alcuni anni fa curato da Luigina De Vito Puglia, pittore purtroppo in Italia sconosciuto e più, ma apprezzato molto, soprattutto in Brasile, dove aveva ovviamente rapporti con l'imperatrice napoletana, ma anche nel Regno Unito, dove divenne pittore di corte, grazie alla sua abilità soprattutto di dipingere scene di battaglie, navi da guerra. Ma torniamo all'incendio, ormai siamo nella fase delle dichiarazioni del tipo che è una grave perdita, la perdita è inestimabile, è andata in fumo la storia del Brasile. La BBC dice che il presidente brasiliano ha già avviato una campagna di fundraising presso banche e grandi società. Il ministro della cultura sostiene che sta cercando aiuti internazionali e che sta parlando con l'UNESCO. Il governo federale avrebbe già stanziato una prima tranche di 3,6 milioni di dollari per ricostruire il distrutto e ripristinare la collezione. Ripristinare la collezione. Forse pensa che si possano restaurare anche le ceneri. Ma dico io, tutto questo non potevano farlo prima. Non potevano stanziare prima i soldi per dotare il museo della sicurezza necessaria. Non si potevano coinvolgere prima banche e società per restaurare la struttura. Non si poteva parlare prima con l'UNESCO per salvaguardare al meglio la collezione. Ci sarebbe stato tutto il tempo. Rimane solo una triste domanda. Ma perché ogni tanto non si cerca di prevenire invece che compiangere?